Niccoli Revisore Qualche anno fa mi sono reinventata mixando delle discipline, un po' come nel video che vedevamo prima dei multipod, penso di esserne una, creando un lavoro che effettivamente è unico e tutto mio. Io sono una marketer e mi occupo di autostima femminile usando i tacchi come strumento di empowerment. Questa cosa piace tantissimo la stampa, quindi mi intervistano molto spesso anche riviste nazionali, giornali, eccetera. Ogni volta che esco sulla stampa mando una cernita di foto abbastanza vasta perché loro possano illustrare gli articoli. Molti giornali usano le mie foto, la gran scelta era quella che vi ho fatto vedere prima, questa qui, e però a volte attingono ai loro archivi, facendo delle scelte a volte discutibili. Oggi vi racconterò cosa è successo qualche anno fa con una di queste scelte discutibili. Che cosa fa un giornale quando deve illustrare un articolo? Non hanno voluto scegliere le mie, vai a sapere perché. Prendono i loro archivi e soprattutto avviene un lavoro di reinterpretazione dell'articolo. Come sentivamo qualche speech prima, il mondo è come lo vediamo noi. E quindi loro rinviano ai loro lettori la loro visione di quello che io gli ho raccontato. Questo articolo è uscito qualche anno fa per un evento locale di empowerment femminile una domenica pomeriggio. Io non ero molto contenta, anzi ero proprio una iena. Quindi telefono la giornalista che mi aveva fatto un'intervista meravigliosa, bellissima, parlavamo di cose fantastiche. Le dico, senti, come mai hai messo quella foto là? Te ne ho mandate tantissime, non sono arrivate. Che è successo? Mi fa, no, non la scelgo. Io sai, scelgono i titoli, c'è il titolista, le foto le scegli un altro. E insomma, ma tu non puoi capire, io sono una iena per questa cosa. Questo qua è un esempio lampante di oggettificazione del corpo femminile, che demolisce tutto il lavoro che io faccio con le donne. Per me è gravissimo. E lei candida. Mi dice, ma dai, è solo una foto. Ma dai, dovevano vendere. Ma dai, devono attirare l'attenzione. Ma dai, si fa così. Quante volte la sentiamo questa cosa anche dicendola noi stessi? Ma dai, è solo una pubblicità. Ma dai, la moda lo sai, quel mondo. Ma dai, ma dai o me la dai? C'è una nuance molto forte. Io ho riflettuto molto a questo. E il fatto che lei non avesse capito la gravità nell'ecosistema sociale dell'oggettificazione del corpo femminile. Questa fotografia, io non so voi, ma io non mi vesto così di pomeriggio per me, non è poi così normale andare in giro così, no? Non so, io non mi metto. Vediamo, proviamo. Su un divano così, quando ricevo i miei clienti, e gli parlo del progetto che devo fare. Non lo so, vi sembra normale una cosa dal genere? Metterla su un giornale per un evento pomeridiano? Vi sembra normale che la pubblicità veicoli la donna in modo completamente oggettificato? Che vuol dire oggettificazione? Che cos'è l'oggettificazione del corpo? E prenderne solo una parte, nel caso della donna, anche sessualizzandola, e usandola soltanto come un oggetto per uno scopo preciso. Queste sono tutte pubblicità attualissime della moda e non. Il problema è che non capiamo le conseguenze nell'ecosistema sociale. Quando tu prendi un corpo, qual è la differenza fra una persona e un oggetto? Io non è che vado dalla mia lavatrice e le dico «Cara, ti va di farmi una centrifuga? Ci stai? Me la fai?» No. Io dico alla macchina «Fai una centrifuga, la uso, non la uso, si rompe e la butto». Quando oggettifichiamo un corpo, soprattutto quello della donna, diamo sempre lo stesso messaggio. È un oggetto, non ha la parola. La fotografia che rappresentava il mio articolo non c'era la testa. C'erano soltanto le gambe, i tacchi, le calze a rete. Il problema è che tutte queste campagne vanno poi fuori contesto perché vengono sparate nel mondo. Quindi le vedono tutti, tutta la popolazione, anche i bambini. E c'è un bombardamento tale di immagini di questo genere ogni giorno da quando nascono e hanno capacità di intendere. E i bambini sono spugne. L'essere umano impara anche per emulazione, per adattamento. Ci adattiamo tutti continuamente, l'abbiamo sentito anche in altri speech. Tutte queste cose non sono prive di conseguenze. Stanno educando le persone fin da piccole ad avere alle donne un'immagine del loro corpo completamente irreale perché il modello, e lo sappiamo bene, ma dai, è una pubblicità, ma dai, è una modella, il modello è completamente irreale, addirittura photoshopato. Neanche quella modella lì è reale nella pubblicità. E agli uomini, ai bambini e poi adolescenti e uomini, a vedere la donna come un oggetto da usare e di cui disporre, da cui nascono tantissimi stereotipi sulle donne. Stereotipi che veicoliamo anche noi stesse perché siamo immerse negli stessi stimoli. Quante adolescenti, io ne conosco tante, poi io me le becco ai miei corsi, le trentenni, quarantenni, insicure, no, io gli short non me li metto perché sono grassa. Vai a dire a un adolescente di 16 anni che non vuole andare al mare perché non ha superato la prova costume, non si vuole mettere in costume. Questo è un problema di sanità sociale più che familiare perché molte famiglie non arrivano a educare i loro figli a capire la differenza. E se ci pensiamo, bisogna andare a spiegare che questa cosa non è reale? Quindi bisogna lasciarla stare per poi spiegare, no, ma aspetta, guarda che, ma dai, è una pubblicità? L'oggettificazione del corpo femminile sta annullando la diversità, la normalità. Sono nuda, tranquilli, quasi. Allora, che cos'è la normalità? Che cos'è il modello? Non di certo la modella stanga, qualcuna esiste. I corpi normali hanno un po' di pancia, hanno la cellulite, abbiamo forme del corpo diverse. E' difficile far capire a una bambina, a una ragazza, che quella roba lì non è reale, perché gliela abbiamo impasto tutti i giorni fin da quando è nata, ok? Quindi, di recente mi è successa una cosa molto strana. Questa sono io al lavoro, ma l'avete vista anche prima. Uscendo tanto sulle riviste, una mia fan mi ha scritto, molto premurosa, dicendo Veronica, sai, ora che esci tanto sulle riviste, le ragazze ti seguono, dovresti dimagrire qualche chilo per dare il buon esempio. Io sono poliglotta, sono laureata, ho un'azienda, sono professore universitario, motivo le donne a smettere di pensare al loro aspetto e pensare di più alle loro azioni. Non che un corpo in salute non vada bene, anzi, va benissimo, ma non dipendiamo più dal nostro aspetto per la nostra sopravvivenza come l'ora prima con un buon matrimonio. Se non ti sposavi, eri fottuta. È finita, siamo indipendenti, yeah! Siamo però rimaste sintonizzate sul corpo che è veicolo di sopravvivenza. Io a questa ragazza non sapevo cosa dire, ho cercato di sperare e ho detto cavolo, allora sto lavorando malissimo, che errore ho fatto. Ecco perché l'oggettificazione del corpo femminile è talmente radicata nel nostro ecosistema, che è un problema sociale che non possiamo più ignorare. Io ho due proposte. Ho due proposte. La prima è molto seria. Oh, mi si è aperto tutto. La prima è molto seria e riguarda la legge. Non fare causa a quelli che fanno le pubblicità strane, ma legiferare. Voi sapete che una pubblicità, prima di andare in onda o sui cartelloni, subisce un iter di controllo. Nazismo. Uh! Torniamo indietro di una, rimaniamo lì. Nazismo. Se sono alimenti, se c'è troppo zucchero, troppo sale, ormai devono mettere una scritta. Via via aggiungiamo paletti a questo iter di controllo nelle pubblicità. Oggettificazione del corpo femminile non pervenuta. Io non mi fermerò e tante come me non ci fermeremo, finché questo paletto non farà parte del iter di approvazione di una pubblicità con una legge a livello europeo. E questa è la prima proposta. E questo fa parte del mio lavoro di attivista in modo attivo. Ma io sono una e noi qua siamo tanti. La gente che ci guarda poi su YouTube è ancora tantissima. Dicono che le rivoluzioni non si fanno sulla tastiere. Balle. Le rivoluzioni si fanno a tavolino e sono economiche e non si fanno più in strada. Io sono stata l'8 marzo in strada. Eravamo pochissime. Le rivoluzioni si fanno anche sulla tastiere e sono economiche e possiamo farne parte. Perché? Perché viviamo in un momento storico dove noi abbiamo per la prima volta la capacità e la possibilità di interagire con i brand che fanno queste pubblicità. Con il marketing. Noi possiamo rispondere. E anzi loro nel marketing cercano il dialogo, la conversation. cercano l'engagement, quindi vogliono che noi gli rispondiamo. Io quello che propongo è molto semplice. Dato che noi, glieli diamo noi i miliardi che incassano, siamo piccoli. Uno non conta, tutti insieme conta. Le rivoluzioni delle tastiere si fanno educando il marketing. Perché è il marketing che educa i nostri bambini. Dobbiamo rieducarlo. E come possiamo fare? È semplicissimo. Come si educa un bambino? No, gli dici, non si fa brutto. Perché non capisce. Come fai a spiegargli che un comportamento, una certa azione, non va bene? Gli dici, guarda, hai fatto cacca fuori dal vasino? Andrebbe fatta nel vasino perché è molto meglio per questo e quest'altro motivo. Lo educo, glielo spieghi. Non sono stupidi i bambini, capiscono. Magari glielo ripeti una, due, tre, cinque, mille volte. Spegni le luci. Quante volte ce l'hanno ripetuto fino ad adolescenti? Tantissime. Quindi devi martellare, bisogna essere costanti. E anche, se c'è un comportamento virtuoso, dici, bravo, l'hai fatta nel vasino. Ecco, quindi c'è una spiegazione del perché. Rispettosa, non vaffanculo, hai fatto una pubblicità sessista, ti odio. Non serve a molto. Insegniamogli, facciamogli capire che noi, mercato, non siamo d'accordo. Quindi il punto è, il mercato siamo noi, madri e figlie, padri. Riduchiamo la pubblicità, diventiamo attivisti da tastiera, perché noi siamo milioni. E soprattutto noi siamo milioni di culi. Grazie. Grazie.